Cioè tutte queste piccole cose che sembrano spigoli creati da me in realtà vengono amplificati perché sono io, perché in realtà non c'è nulla di così grave, anche nel cercare una combinazione di letti essendocene tanti. Sì però è un fatto che poi alla fine ci hanno un po' tutte la stessa impressione, cioè insomma è tutto gratuito quello che fanno, che pensano di te o diciamoci la verità c'è anche un po' del tuo? Ma sicuramente c'è del mio, sicuramente c'è del mio, sicuramente, sicuramente. Allora vedi che lo ammette che c'è del suo. Ma certo che lo ammetto, non è possibile, chiaro che c'è del mio, però la differenza è un conto è del mio in mala fede, cioè strumentale oppure strategico eccetera. Un conto è del mio nel senso che io magari sono diversa, posso essere ironica, tagliente come lei può essere in un certo modo, lui può essere in un altro. Uno accetta la diversità dopo tre settimane, l'altro giorno dopo giorni di serenità. A proposito di questo, Beatrice, scusami, allora a proposito di questo Massimiliano fai bene attenzione perché Beatrice ha avanzato un'altra ipotesi. Grazie a tutti.